Come ricaricare il conto Dal pannello Fatturazione è possibile ricaricare il credito per l'invio delle comunicazioni con tagli a partire da 10 euro. Vai su Fatturazione, clicca su Ricarica credito, clicca su L'importo e clicca su Procedi. Finché il credito è superiore a 1 euro, sarà possibile inviare messaggi. Sempre nel pannello Fatturazione è possibile visualizzare i movimenti relativi alle ricariche e agli invii con i relativi costi.